bella ragazzi un video molto veloce per dirvi due cose la prima è che le live adesso le porterò su twitch quindi vi lascio sotto in descrizione il link appunto per andare a mettere il follow sul canale di twitch in modo tale che potrete seguire le varie live e comunque video rimarranno li porterò comunque su youtube e l'ultima cosa vi dirò che finalmente ho deciso dalla prossima season di tornare a provare a giocare a rainbow six sperando che mi appassione di nuovo vedremo quindi ragazzi ci becchiamo su una live su twitch mi raccomando andate a mettere il follow